Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team Amici della Serie A Team, buon pomeriggio da Federico Zanone, benvenuti ad Atalanta Inter partita che vale la nona giornata di campionato, la nona giornata di Serie A Team Doveri è pronto a fischiare per la prima volta e in questo match si parte, è iniziato il match Gomez, guardate a me il cross, è interessante per Petagna, Andanovic ci mette i pugni Poiché si prova a recuperare, allontana Gio Mario, primo brivido per l'Inter Brava ancora Andanovic Pallone che passa, colpo di testa sul secondo palo Masiello, la spinge in porta e avanti l'Atalanta Si fa trovare pronto, al momento giusto per spingere Lo aspetta Nagatomo, Dramé va ancora sul sinistro, la cross arriva comunque Il colpo di testa Andanovic a dire no a Conti Che si Toloi può calciare, prova Toloi Andanovic con i pugni Può partire il secondo tempo Ecco il fischio, è riniziata l'Atalanta-Inter Va Eder, è un super gol, quello di Eder, il pareggio dell'Inter Un missile che non lascia a scampo a Bericcia La risposta dell'Inter Dopo un primo tempo inguardabile Allontanato Gasperini, allontanato Gasperini Contro anche Caldara, il pallone per il colpo di testa di Conco Andanovic Finisce il match di Petagna Secondo cambio anche per l'Atalanta Va da Santon, il cross per Riccardi, all'indietro Perisic, Bericcia Super intervento Poi Conco, non è finita Chiedo scusa a Joe Mario, non è finita Ansaldi, altro pallone dentro, sul secondo palo La chiama Bericcia, c'è solo lui Campo di campo Perisic, in mezzo ci sono Icardi e Candreva Perisic non cross, lo fa ora per Candreva Lascia passare Joe Mario, deviazione E Bericcia, bravissimo a tenerla lì Va sul sinistro, che si Messo giù, calcio di rigore Calcio di rigore per l'Atalanta Va Piniglia Andanovic sceglie l'angolo giusto Ma non basta, torna avanti l'Atalanta Con Maurizio Piniglia Va a prendersi l'abbraccio del suo pubblico Della sua curva Non c'è più tempo Ecco la parola fine Vince l'Atalanta 2 a 1 Decide Il rigore di Piniglia Grazie a tutti Grazie a tutti.